Poi arriva Sardegio Slimbani, palla lì indietro per Bloise, bellissimo assist per Davide Poltroneri! Scali che trova a sparare la tripola, la sbaglia però il numero 7, raccoglie il rimbalzo però Fernando Marengo che la dà molto bene nell'angolo a Davide Poltroneri! Quintina con Giorgi, Siracoco che la dà a Bloise, poi Poltroneri prova la tripola, è il numero 21! 17 da 3, Quintina che attacca con il solito Davide Poltroneri che può girarsi, head away! Davide Poltroneri! Bomba! Marco Perin, portano sul 49 al 62, fa davvero il fisico per la Fiorentina che però reagisce immediatamente in questo ultimo quarto! Che manda a segno anche il secondo! Corre il numero 21, la mani bastate sulla schiena! Digliattoni! E poi va a mettere! E manda a segno il primo! Che realizza anche il secondo, con freddezza, vince il tiro da 3, arresta il tiro da 2, poi per lui sbaglia però! E allora recupera ancora Davide Poltroneri! Un minuto ai 10 da giocare! Si chiamma il pubblico, sugli spalti! Davide Poltroneri! Ancora lui! Trova la tripla dal lontanissimo! E la mette! E la mette! Davide Poltroneri! Che va a mettere invece il secondo! A 4 secondi dalla fine, Poltroneri in lunetta! Può chiuderla! E mette! Il libero che vale il più 4, 72 a 68!